Tutto è bene quel che finisce bene. La giunta regionale di governo ha approvato ieri sera il piano che consente la stipula della convenzione con il Ministero del Lavoro e la ripresa dell'attività lavorativa per i 24 LSU del Comune di Ribera. Il presidente Crocetta ha mantenuto l'impegno e 254 LSU in tutta la Sicilia potranno tornare al lavoro e continuare a ricevere il sussidio erogato dal Fondo Sociale per l'Occupazione. Una battaglia, quella dei precari ribereci che era stata sostenuta dall'amministrazione e dal Consiglio Comunale, a esprimere soddisfazione per la soluzione dell'avvertenza è l'assessore Cristina Cortese che nei giorni scorsi aveva sostenuto la protesta dei lavoratori a Palermo. Un sospiro di sollievo per i nostri lavoratori. Proprio di ieri sera è la notizia che la giunta regionale ha approvato il piano di stabilizzazione che permetterà così di continuare la stipula della convenzione con il Fondo Sociale per l'Occupazione. Sicuramente i nostri lavoratori già da ieri ricevevo telefonate proprio di gioia e di giubilo, se consentitemi il termine, perché la situazione che si prospettava era abbastanza drammatica. Quindi un sospiro di sollievo da parte dell'amministrazione di tutta la città che si era stretta accanto ai lavoratori. Assessore, che tempi si prevedono per l'effettivo ritorno al lavoro di queste persone? Presumo i tempi materiali che questo piano venga trasmesso al Ministero e poi dal Ministero hanno promesso tempi brevi per la stipula della convenzione. Quindi qualche giorno speriamo di riaverli al lavoro come prima. 24 famiglie, la maggior parte delle quali monoreddito, che tirano un sospiro di sollievo, ma l'assessore Cortese sottolinea anche quanto sia importante per il Comune tornare a poter contare su questi lavoratori. Per considerare 24 dipendenti rischiavamo di bloccare alcuni servizi essenziali, alcuni di loro prestano servizio al nostro asilo nido comunale, altri manutenzionano all'ufficio agricoltura. Quindi tutti validi e tutti indispensabili sicuramente, quindi questo ci solleva molto. La vicenda degli LSU sospesi da due mesi era stata al centro giusto ieri anche di una interrogazione presentata dalla parlamentare del PD Maria Iacono al Ministro del Lavoro per sollecitare il Governo nazionale e regionale a superare il problema legato a suo parere ad una incomunicabilità tra Palermo e Roma. In gioco aveva scritto Maria Iacono c'è il futuro di centinaia di lavoratori e la stessa tenuta dei comuni che da anni ormai usufruiscono dei servizi svolti dagli LSU divenuti nel tempo irrinunciabili.